ciao a tutti oggi è il 3 settembre 2023 e ci tenevo a rifare un video sul recinto elettrificato per proteggerci dai cinghiali dei cervi dei caprioli io lo utilizzo più che altro per la vigna adesso qui ho già raccolto l'uva ma vi volevo fare un po a vedere un po come come farlo come l'ho fatto io eccetera sul cane trovate un video che avevo fatto col cellulare l'anno scorso in modo rapido per sempre per i ragazzi del gruppo però ci tenevo a farne un altro fatto magari un po meglio per farvi capire un po i vari punti salienti di come monterlo e di come assemblarlo i distanziatori eccetera allora innanzitutto io lo utilizzo come dicevo per la vigna e in mezzo anche l'orto eccetera e lo attacco lo monto diciamo dopo attorno al 20 di agosto e lo tolgo quando quando ho finito di raccogliere l'uva però i paletti sono sono stabili nel senso gli ho messi con lo scavatore abbiamo abbiamo preso dei tubi di un vecchio acquedotto saranno un diametro cosa sarà boh 25 no sarà 35 40 di diametro millimetri e poi li ho forati ho fatto dei fori all'inizio ne volevo mettere tra i distanziatori poi ho visto che per i cinghiali ne bastano due e poi con l'escavatore abbiamo schiacciati giù non abbiamo fatto forne niente e poi ho messo dei pezzi di legno che ho sagomato con un taglio a 45 gradi noi li chiamiamo taglioli non so se è una parola dialettale o esiste anche in italiano e poi con con la massa le ho stabilizzate ma adesso si muove un po però uno si dà un colpetto dopo diventano belli stabili e poi non conta che siano proprio stabili stabili importante che il filo sia bello teso e quindi dicevo proprio questi tubi li ho tagliati e poi ho fatto questi distanziatori e per il filo io ho preso degli scarti che ho preso che ho preso a lavorare che buttavano via praticamente sarà un quindi un 20 25 mm di spessore di plastica quindi questo qua non so se nylon o polietilene non mi ricordo e non ho fatto niente altro che fare un foro centrale col trapano mettere una barra filettata questa è una barra filettata zincata l'ho avvitato e poi ho fatto un foro passante che l'entrata qui l'uscita qui sarà un 8 ed esce qui e chiaramente il filo non deve toccare la barra perché e come funziona il recinto recinto funziona che qui e là c'è un alimentatore dopo ve lo faccio vedere apposito che serve per questo che dà degli impulsi e su questi fili questi qua sono fili appositi questo qua il formato quello più grande credo che sia un 6 mm e ce ne sono tanti tipi a di è un filo una corda di spago con avvolti dei tanti fili non so se sono di ramo d'alluminio che conducono quando c'è un contatto tra la terra e e questo filo avviene il cortocircuito e chi tocca prende la scossa io l'anno scorso mentre lo provavo per erroneamente ho toccato un filo e da da una bella botta l'ho preso perché stavo stavo provando se funzionava quindi mettevo un cavo di rame qui un pezzo un capo qui un capo tersile che ho toccato il rame che non era coperto tanto bene e l'ho presa e devo dire che da una bella botta quindi funziona funziona meglio chiaramente se c'è un po umido in terra perché il cinghiale avendo una bella un bel manto con delle settole se c'è appena umido è meglio perché conduce ancora di più e prende una bella botta comunque quello che utilizzo io ce l'ho collegato direttamente all'impianto della monofase a casa dopo vi faccio vedere tutto quindi paletto barra filettata isolatori e poi c'è un un anello con questo filo che va giù adesso vi faccio vedere alcuni pezzi la cosa importante è che è importantissima che il filo non tocchi il paletto qui per dire ho messo un tubo dove 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 inizia o finisce l'anello e in modo che così vedete in modo che non ci sia con che il filo non tocchi mai il tubo perché se tocca conduce e non funziona i cinghiali lo sfondo ne vanno quindi deve essere protetto dove ci sono i paletti importantissimo che non vada massa con col paletto e poi questo qua alla fine perché c'è un filo unico che parte da qui fa tutto il giro e poi torna qui e qui l'ho morsettato con dei classici morsettini di quelli che trovate nelle ferramenta che vengono utilizzati anche per dire nel nel filo per stendere i panni un morsetto con due bulloncini si stringono si doppia il filo si triplica in modo che non sia bello stabile quindi due isolatori questo qua ho usato uno scarto di un tubo del goccia a goccia per dire ho messo un altro scarto di tubo in modo che non tocchi e questo diciamo parte l'anello gira intorno qui o qui dove c'è il ricchio che che tocchi il tubo metto sempre un pezzettino di plastica con un pezzo di nastro in modo da farlo stare un po fermo in modo che non ci sia il rischio di che tocchi il paletto poi fa il giro come su un paletto un po più piccolo perché non ci arrivavo con lo scavatore e qua c'è l'alimentatore dopo ve lo faccio vedere prosegue e poi quando ogni tanto uso questi tenditori qua sempre di alluminio che conduce e li trovate li trovate facilmente sono quelli che vengono usati per il filo della vigna eccetera uno ci mette il filo lo gira e lo mette in tensione poi ci sono due rivettini che bloccano tutto qui vedete sempre quando ne ho usati due di distanziato c'è ne sono montati da manutti dati due perché il primo nuovo montati tre ma non servono praticamente a nulla e adesso questo qua un angolo sempre con i suoi con le sue protezioni in modo che non tocchi il ti non tocchi il paletto come dicevo prima scendiamo giù considerate che il filare sono 50 metri e li ho messi ogni uno due tre quattro cinque ogni sei o sette metri anche importante che il filo sia bello teso di solito i cinghiali entrano di qua quando non ce l'avevo venivano sotto scavano sotto e passavano qua questi qua li ho fatti irregolabili perché perché quando ho piantato il paletto c'è quello scavatore non è che uno sta lì al millimetro c'è due bennate e lui va giù una certa approfondita e poi uno con una piastrina regolo regoli una pastina lo muovi e ci dà l'altezza che vuoi da terra vedete qui il pezzo di legno come vi dicevo ogni tanto mettete un dei tenditori così sempre questi nel caso che non tocchi nel caso che dove vedete che ci può essere rischio fate dei pezzettini di tubo piccolo questi qua come dicevo non sono sempre sta sono sempre cosco bello stabile e poi dove non arrivavo con lo scavatore non ho messo ho messo dei tuoi potete usare anche dei tubini dall'acqua questo qua da mezzo pollice credo che sia anche da tre quarti da poi quello che trovati avevo questo poi li vendono anche però quelli che vengono sono dei preti che fanno ridere si va contro un cinghiale la cosa sta attenti che non ci siano delle cose tipo questa che fa ponte bisogna bisogna che ci sia bello tagliato sotto che adesso è cresciuto un po d'erba ma c'è abbastanza potente non non crea problemi però teneteci bello pulito andiamo avanti qua questo questo poi qua passa tra passa passa di fianco alla rete e poi la in fondo nel l'accia un altro punto come all'inizio che il filo trono indietro qua per ho dovuto sono dovuto passare qui in mezzo ma della rete quindi ho messo degli isolati dei tubi per isolare per passare poi vado la e torno indietro fa il giro il filo torna indietro torniamo su adesso sono 50 metri di lunghezza il filare saranno altri 40 30 40 di per il lato poi dall'altra parte ciò ciò il capannone la casa qui non mi serve in pratica ciò 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 sono tre lati cioè non completi il primo parte vicino alla casa come abbiamo visto che nessuno tra i cinghiali più che altri entrano da dalla strada qui vengono dentro e passano sotto sfondano la rete perché io sono la rete quella lì in filo plastificato che andrebbe ci andrebbe con l'elettro saldata messa giù profonda coi tondini rivolti verso la strada in modo che così il cinghiale quando col muso cerca di scavare c'è il tondino gli da fastidio però la cosa migliore è il recinto io poi c'ho paura l'uva la raccolgo presto lo stesso perché perché se viene dentro un cinghiale in questo caso farebbe fatica perché se entra arriva arriva piano però per dire se ce ne sono tre o quattro il primo arriva forte prende la scossa però magari spacca il filo è un problema infatti alcuni mettono delle molle ogni tanto che attutiscono il colpo se volete stare sicuri prendete delle molle grosse sempre di ferro tanto conduce in modo che c'è un po più di gioco se arriva anche il cinghiale un po' forte magari si piega appena il cinghiale becca la scossa torna indietro e io adesso l'ho messo rigido e poi se volete fare un passaggio montabile apribile se dovete entrare io adesso qui non l'ho fatto perché quando passo quando devo passare col motocoltivatore svetto due viti tiro su passo e rimonto però se no potete mettere delle molle anche qua che si ganciano un'altra parte ma che conducono tirate via le molle passate eccetera adesso vediamo un po' alimentatore allora io l'alimentatore l'ho montato qui ho fatto un sistema diciamo per per tenerlo abbastanza isolato se dovesse piovere eccetera quindi ho preso un mastellone poi ho messo un altro sacchetto di nylon e poi dentro c'è tutta l'acqua che abbiamo avuto settimana scorsa e poi qua dentro c'è il sformatore chiaramente staccato adesso allora quella è la pallina della terra come su vicino io una pallina apposita non usate quella di casa che sennò vi salta differenziale fate una pallina abbastanza distante la piantate giù un metro un metro e mezzo e poi vi collegate la terra dell'alimentatore adesso lo stacchiamo questo è il cavo che arriva da casa con un pressacavo chiuso e questo è l'alimentatore apposito allora questo qua è un gallagher si chiama m500 ma ne trovate tanti modelli vediamo i dati allora questo a funziona a 230 quindi la corrente monofase di casa 50 a 7 watt e non c'è scritto come guardiamo conforme dispositivo relativo adesso non so se se non ho idea del di che corrente butti fuori comunque da degli impulsi di corrente chiaramente non non so quanti non so se non so che se sono perché non non è spesso in volt non so se da degli impulsi da 7 watt a 230 volt non ho idea comunque potete ne trovate tanti tipi questo qua quello che uso io e c'è da una parte il morsetto di terra che va alla palina e dall'altro tutto dall'altro c'è al morsetto il morsetto che va che vale al recinto questo qua parte gira e va qua e poi ho messo un filo che da un filo ho messo un altro filo che va da che tiene collegati due file che così trasmette l'impulso un po meglio diciamo serve a poco è però l'ho fatto quindi ricapitolando c'è l'alimentazione 220 che entra e qui c'è la pallina di terra che è quella e il cavetto un cavo di rame che va a recinto adesso tanto lo lasciamo staccato che tanto non mi serve più nei prossimi giorni lo smonto che ho raccolto l'uovo finito stamattina quindi questo lo chiudiamo qua così ecco qua due minuti lo smonto che non serve più è molto semplice del funzionamento l'importante come dicevo è fare attenzione che il cavo non tocchi il paletto paletto infatti l'ideale sarebbe utilizzato i paletti di plastica che sono quelli isolanti con gli isolatori di plastica allora è una cosa sicuramente più più fatta meglio perché si si evita il problema che va da terra il cavo mi raccomando prendete un filo buono di quelli che costano di quelli che portano tanti volte in modo che siete tranquilli per i cinghiali perché i cinghiali chiaramente hanno della forza quando ci vengono contro altrimenti si si spacca il filo e non usate le bande perché le bande vanno bene per i cavalli e non vanno bene o per le pecore forse però per i cinghiali ci vuole questo quindi l'ideale farlo così metterci magari le molle come vi dicevo prima che si arriva il cinghiale e prende un colpo così attutisce eccetera e spero di di essere stato abbastanza chiaro fissate bene i figli dei bei mossetti in modo che sia per capire se c'è se l'impianto a terra a parte che il il mio per dire da a un grafico che quando l'impulso sale e scende quindi se arriva il verde per dire ha dato l'impulso e poi bisogna vedere chiaramente che tipo acquistate eccetera se a terra se c'è qualcosa di tutto si sente proprio il rumore si sente proprio la corrente che tocca a terra quando dalla scossa quindi se fate un giro quando l'avete montato per essere sicuri che che conduca eccetera altrimenti se volete fare una prova prendete un cavo staccate l'impianto prendete un cavo lo collega un cavo di rame lo collegate al filo mettete l'interruttore isolato poi un altro filo a terra lo mettete a terra poi quando schiacciate l'interruttore sente proprio il rumore dell'impulso quando attivo se volete essere sicuri che funziona non fate come ho fatto io a mano perché dopo rischiate di prendere la corrente non è non è bello la prima se lo fate con i paletti fissi come ho fatto io c'era dal primo anno c'è da far fatica c'è vuol del tempo però dopo in due orette si monta più che altro è far girare tutti filo tutto il filo e poi montare i monsetti eccetera con un pochino di tempo isolare gli angoli però è una cosa che una volta fatta stabile e se riuscite in un poco tempo dopo lo montate e nient'altro se avete qualcosa da chiedere scrivete pure nei commenti sotto il video o in alternativa potete scrivere al nostro gruppo canali di telega dove trovate me e tanti altri esperti di orto apicoltura frutticultura energie rinnovabili permacoltura siamo ormai sui 120 persone o se passate da parma volete venire a trovare io sono qui abito vicino forno di taro qui provincia di parma e vi saluto grazie grazie mille e alla prossima ciao a tutti ciao 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 ciao